Carino il ristorante Buonasera Prego Al convegno GT non diamo mai niente perciò al dato Google ha rivoluzionato il mondo SEO Ci vediamo Reccione, 11 e 12 dicembre Ciao Argentina Come lo sai Cerca di non camminare come Cassano Che ci vuole rimanere Arrivi così Buonasera Buonasera No, hai ragione Non devi seguire Buonasera